Cuore, grinta, piedi buoni e anche un pizzico di fortuna che nel calcio non guasta mai. E' la Fidelis, formato casalingo, che batte con due reti nella ripresa un coriaceo sorrento, vendicando sportivamente la sconfitta della regione d'andata e mantenendo immacolato contro i campani il terreno di gioco del Degli Ulivi. Panarelli deve rinunciare a tre quarti di difesa titolare, con Anatrella, Lacasse e Venturini out perché infortunati. In porte esordio dal primo minuto per il giovanissimo Petrarca, decisivo anche lui nel corso del match, mentre difesa affidata al trio Clemente Fontana Carullo, assolutamente inedita. Accanto a Figlio, Lia in attacco trova spazio Scaringella, nel sorrento invece Fusco deve rinunciare a Mezzavilla squalificato, ma affida Procida e Liccardi le chiavi dell'attacco, entrambi molto pericolosi almeno nel primo tempo. Benvenga spostato sulla destra, serve al centro per Figlio Lia, bravo nella torsione di testa ma palla sul fondo. Primo acuto andriese, subito replicato da un tiro al volo, stilisticamente pregevole di Riccardi, ma è bravissimo Petrarca a togliere le castagne dal fuoco della porta bianca azzurra. Masullo, direttamente sul calcio di punizione, impegna sempre l'estremo difensore di casa, che smanaccia in corner e sulla successiva battuta c'è il colpo di testa di Lamonica, non ci arriva Petrarca ma la palla si ferma sulla traversa. Benvenga ci prova di controbalzo dal limite, palla di poco a lato, poi la gara si addormente, il Sorrento tiene spesso il pallino del gioco e la Fidelis replica alla mezz'ora con un calcio piazzato di Cerone, che finisce sul fondo di poco. Procida si libera bene da sinistra, il suo tiro diventa quasi una beffa per Petrarca, ma la palla anche in questo caso si stampa sulla traversa. Avantaggiato, spostato a destra, serve nel cuore dell'aria una palla deliziosa che Cerone fa sua di testa angolandola bene, questa volta è scarano decisivo nell'intervento. Primo tempo assolutamente godibile con Procida che ci prova ancora dalla distanza, pronto l'intervento di Petrarca, dipinto dall'altro lato, calcia con deviazione, palla facile per il portiere ospite. Dagli spogliatoi però torna in campo, una Fidelis completamente trasformata, più nella testa che negli uomini, aggiusta qualcosa tatticamente Panarelli e Figlio Lì inaugura la ripresa con un tiro debole dal limite. Cerone, questa volta dai 20 metri, facile preda di Scarano, numero uno ospite che si disimpegna bene anche sul tiro molto più pericoloso di Manzo. Bolognese e Prinari nella mischia per Capitan Manzo è avvantaggiato ed è proprio il centrocampista biancazzurra a dare ancora più ritmo al match e a conquistarsi al tramonto del ventesimo minuto un importante calcio di punizione dal limite. Da quella Mattonella è Federico Cerone a provarci, con una parabola precisa che non lascia scampo sia alla barriera che a Scarano per il festeggiatissimo vantaggio biancazzurro. Prinari da assaggio di tutta la sua bravura entrando da sinistra, ma il suo tiro da posizione decentrata è solo l'illusione del gol. Ancora cambi e alla mezz'ora è inneo entrato Kunzi a svegliare dal torpore il sorrento. Il numero 20 conquista palla dopo un errore in uscita della Fidelis e calcia da destra, ma il suo tiro scheggia il palo e finisce sul fondo. La squadra di Panarelli controlla ma si abbassa inevitabilmente. Il sorrento si rende pericolosissimo allo scadere quando una mischia in aria sugli sviluppi di un corner permette agli ospiti di inventare una palombella diretta in porta che Masullo spinge in gol, ma è tutto inutile perché il difensore campano era in offside. Un'occasionissima replicata da Mancino, altro ex del match, che calcia direttamente su punizione un pallone velenoso su cui Petrarca si disimpegna ancora bene. A sesto minuto di recupero poi Monaco conquista palla a centrocampo e si invola in aria prima di essere atterrato per il direttore di gara il signor Catanzaro della sezione di Catanzaro e penalty dal dischetto è perfetto Tiziano Prinari che mette a segno la sua quinta marcatura in campionato e chiude il match spedendo la Fidelis nuovamente a pari punti con il Casarano in seconda piazza domenica gara di cartello con i biancazzurri di scena a Picerno.